Un impianto sportivo tutto dedicato all'atletica, una struttura in grado di ospitare eventi agonistici non solo di livello regionale e nazionale. L'idea di dotarsene è dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum che l'ha formalizzata in un atto di indirizzo approvato dalla Giunta. È il prossimo passo di un iter amministrativo necessariamente complesso che potrà arricchire il territorio di una struttura in grado di favorire la pratica sportiva e di rafforzare l'offerta turistica locale. A parere del sindaco Franco Alfieri l'opera sarebbe infatti perfettamente funzionale all'obiettivo della destagionalizzazione turistica. Quello che abbiamo in mente è un impianto adatto a eventi anche di respiro internazionale capaci di richiamare flussi significativi di spettatori. Al tempo stesso guardiamo con interesse gli appuntamenti amatoriali a quelli dedicati agli atleti giovani comunque in grado di muovere flussi significativi di persone a vantaggio delle imprese locali che operano nei settori dell'accoglienza, della ristorazione e dei servizi. L'intenzione di avviare il percorso che potrà portare alla costruzione del nuovo impianto sportivo era stata anticipata dal sindaco Alfieri già qualche settimana fa nel corso dell'edizione 2020 del Gran Galà dell'Atletica Agropoli. Nel corso dell'edizione 2020 Gran Galà dell'Atletica organizzato dalla società Atletica Agropoli il primo cittadino aveva infatti accennato all'idea di una struttura coperta adatta anche alle competizioni indoor. Noi abbiamo stipulato un protocollo generale tra le due città con Atamo perché oltre ad essere un'amicizia con Atamo, lo sapete, una sintonia politica, ma abbiamo siglato un accordo forte tra le due città che vede il fulcro della collaborazione proprio a confine, alla vicinella, dove abbiamo stabilito che in 100 ettari il terreno che ha scarso valore agricolo perché non vogliamo danneggiare l'agricoltura, una zona di 100 ettari a confine tra Agropoli e Capaccio dovrà sorgere un grande centro per il tempo libero, per il divertimento e per lo sport. Ne abbiamo parlato poco fa e inizieremo dallo sport e inizieremo dall'Atletica, faremo un grande campo coperto dell'Atletica. Grazie per la visione!